Sono tantissimi i bambini e le bambine, insieme sarete il futuro del mondo. Benedici tutti i bambini, tutti i bambini Gesù benedici, benedici il bimbo povero, benedici la bimba abbandonata, benedici il bimbo contento e benedici la bimba che dorme beata, perché il tuo amore è grande davvero, abbraccia in pace l'universo intero. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò, su di te sia pace. Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Speriamo di riuscire a vederci presto e a giocare assieme. Intanto un bacio a voi e alle vostre famiglie. Ciao a tutti, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, buonanotte! Ciao a tutti.